Per la prima volta un prodotto d'altissima tecnologia, il più moderno al mondo, per la misurazione, il monitoraggio della sicurezza dei ponti, viene applicato al di fuori delle autostrade. Quindi il primo accordo con una provincia italiana e un utilizzo di uno strumento, come dicevo, particolarmente innovativo, che verrà applicato in via sperimentale proprio su Ponte Buriano. Ponte Buriano, sorvegliato speciale ed in tempo reale dalla società Autostrade. Argo, il nuovo sistema digitale di monitoraggio e gestione delle infrastrutture, per la prima volta infatti supera i confini dell'autostrada ed arriva su una provinciale. Si tratta di un progetto pilota che vedrà l'innovativo sistema, ormai utilizzato sui circa 400 ponti, viadotti e cavalcavia della rete Autostrade per l'Italia, applicato in via sperimentale su un'infrastruttura della provincia di Arezzo, appunto l'antichissimo Ponte Romano del 1200, che fa da sfondo alla Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Siamo orgogliosi di questo accordo perché veramente permette anche di poter usufruire poi di uno strumento che è stato plasmato sulle esigenze delle grandi infrastrutture autostradali, su invece in realtà di ponti e infrastrutture di media piccola dimensione, che possono essere quelle delle istituzioni, quindi dei comuni e delle province. Il sistema attualmente in produzione intanto realizza un inventario digitale dell'opera, quindi vuol dire che ciascun ponte è suddiviso in parti e tutte le parti sono archiviate in un sistema informatico. Tutto questo è disponibile all'ispettore, cioè a colui che esegue l'ispezione manuale dell'opera, attraverso un tablet in cui l'ispettore si reca fisicamente sull'infrastruttura, vede con gli occhi il difetto, l'ammaloramento, identifica il componente attraverso il tablet, associa l'ammaloramento al componente e quindi costituisce un archivio digitale nel quale tutti gli ammaloramenti sono catalogati e non più giudicati soggettivamente, ma giudicati attraverso un catalogo che è quello emesso secondo le linee guida del Ministero dei Lavori Pubblici. Il passo successivo, quello che stiamo facendo adesso, è che la visita fisica dell'ispettore sul ponte venga sostituita dalla visita di un drone, che quindi periodicamente gira e vola intorno al ponte, un volo prende circa tre ore di tempo, e quindi le immagini del drone l'ispettore non le vede più fisicamente con gli occhi, con tutto quello che comporta, intralcio, fermare la circolazione, fermare i veicoli sul ponte, ma lo vede direttamente su una workstation, su un'applicazione, direttamente da remoto.